Ad Arcevia è in arrivo un terremoto, ma simulato, per testare l'intera operatività della protezione civile. Dal 6 al 10 giugno, infatti, il comune di Arcevia farà da sfondo ad un test che mette insieme squadre di protezione civile provenienti da vari paesi esteri, simulando una grave calamità a livello scenografico. Un terremoto di magnitudo importante, con tanto di figuranti con traumi e danni fisici. Saranno dislocati nel comune di Arcevia, esattamente, qui nella provincia di Ancona, tre ospedali da campo. Uno proveniente dalla Germania, dalla protezione civile tedesca, uno dall'Austria e uno dalla Romania. Poi ci saranno tutta una serie di esperti provenienti anche da altre nazioni, per circa 220 persone provenienti dall'esterno. Questa è un'esercitazione che ha un realismo praticamente totale. Addirittura arriveranno in aeroporto, già dall'aeroporto saranno controllati come si fa nella normale attività. Saper comunicare e lavorare insieme per garantire la sicurezza anche in caso di grande emergenza. Questo l'obiettivo. Il test portato avanti a livello europeo è un orgoglio per le marche scelte per questa manifestazione. Arcevia ha già ospitato l'evento nel 2019. È un momento veramente di orgoglio perché è un momento in cui noi possiamo veramente divulgare e informare di quello che noi siamo. Eccellenze ambientali ma anche storiche e culturali. Nel corso della giornata sarà promossa Arcevia e anche tutta la vallata del Misa. La regione Marche metterà a disposizione volontari e professionisti, il comune di Arcevia, gli spazi e i luoghi. La questura sarà presente con le forze dell'ordine, vigili del fuoco, carabinieri, polizia, guardia di finanza e capitaneria di porto. Si tratterà probabilmente di fare degli interventi che, siccome c'è una collaborazione, protezione civile e aspetti sanitari, forse ci sarà l'esigenza di un intervento da parte delle forze dell'ordine ma non vogliamo spoilerare troppo la questione. Un momento di incontro tra enti per mettere al centro la sicurezza, non solo a livello regionale.